Sono il signor Giacomo Gozzini, sono il ministro del turismo di San Mignato. Siamo molto felici di dare il vostro ospitalità in San Mignato. Siamo sperimenti che il vostro sguardo, il sguardo della cattedrale di San Mignato. Siamo sperimenti che il vostro sguardo, il vino dell'associazione del produttore di San Mignato. Siamo sperimenti che il vostro sguardo a San Mignato. Benvenuti. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie Bart. Grazie per l'ospitalità, per il vino e per il bel tempo. Anche per il bel tempo.